Ciao a tutti i collezionisti e collezioniste e benvenuti su Lele King TV con quest'altro pronostico tra Napoli Genoa e Milan Atalanta Andremo ad aprire i 5 pacchetti di Calciato 2021-2022 e l'ultimo pacchetto in assoluto delle score non ne ho più Che è questo da 30 card per il secondo tempo Quindi restate collegati fino all'ultimo, non perdetevi fino all'ultimo questi pronostici Detto questo ragazzi iscrivetevi al canale, attivate la campanella perché la prossima settimana per l'ultima giornata andiamo a pronosticare tutte 10 le partite Già questa settimana ne pronosticheremo veramente tante perché abbiamo già pronosticato ieri Verona-Torino e Roma-Venezia Quest'oggi facciamo Napoli-Genova e Milan-Atalanta Il prossimo video sarà Cagliari-Inter e Juventus-Lazio Quindi non perdetevi già questi video ma quelli della prossima settimana in cui andiamo a pronosticare tutta la serie Ah ragazzi è tanta tanta roba, tanta tanta roba Andremo a fare 3 partite a video e l'ultimo video di 4 partite Quindi ragazzi veramente non so come farò, non so come farò ma farò tutta la serie Io direi di iniziare ragazzi con questo pronostico Fischiamo l'inizio dei match Fischiamo l'inizio a Napoli e l'inizio a Milano Iniziamo con le bustine di Calciatori 2021-2022 e poi andiamo a finire con le score Mi raccomando ragazzi seguitemi anche su Instagram e su TikTok Apriamo il primo pacchetto, vediamo cosa esce fuori dei calciatori Quagliarella, eccolo qui Poi troviamo Mazzari, allenatore del Cagliari L'avatar del Bologna, se non sbaglio questo dovrebbe essere Poi troviamo Buongiorno del Torino e la Maglia dell'Atalanta Quindi Atalanta 1 a Milano Mila 0 Atalanta 1 Andiamo con il secondo pacchetto Il Milan che si gioca allo scudetto in queste ultime partite di campionato Abbiamo il Genoa con Ecuban che passa in vantaggio a Napoli Anche questo un altro risultato momentaneamente inaspettato L'Inter, la formazione dell'Inter Poi troviamo Genoa Mattia Testro 0-2 Incredibile ragazzi Incredibile È vero che il Genoa deve lottare fino all'ultimo Zortea della Sernitana e Mazzocchi del Venezia Quindi per adesso siamo a Napoli sullo 0-2 per il Genoa A Milano 0-1 per l'Atalanta Andiamo col terzo pacchetto, vediamo cosa succederà Come al solito ragazzi Lasciate like, scrivete sotto nei commenti i vostri pronostici di questi match Intanto arriva Lozano che accorcia le distanze per il Napoli Gol del Napoli Si va sull'1-2 Tre giocatori del Cosenza Tre giocatori della Cremonese che è stata già promossa in Serie A Come il Lecce Orsolini del Bologna E uuuu Bei rami del Genoa Incredibile ragazzi a Napoli 1-3 per il Genoa Andiamo con un altro pacchetto Colantuono della Sernitana Allenatore Quindi niente Poi troviamo Andrea Azzoli dell'Empoli Tre giocatori del Pisa Il Milan con Florenzi a Corcia No a Corcia Fareggia con l'Atalanta Col buon e bello di Nonna Eccolo qui E lo Spezia a Gudelo Quindi siamo sull'1-1 a Milano E 1-3 a Napoli Si può ribaltare tutto Perché con le score può succedere di tutto Troviamo Salsedo dello Spezia Tre giocatori del Parma L'Avatar della Fiorentina Se non sbaglio McKennie della Juventus E Gagliardini del Inter Fischiamo la fine ai primi tempi Ragazzi finiscono qui I primi tempi E abbiamo risultato clamoroso a Napoli Milan-Atalanta Può succedere di tutto Perché l'Atalanta Sta facendo un campionato Sotto le aspettative Quest'anno Ne ha fatti tanti Sopra le aspettative Quest'anno sta facendo uno Un po' al di sotto delle aspettative Quindi magari Nell'ultime giornate Potrebbe svegliarsi Magari cercare Di rompere le uova Nel paniere al Milan Il Napoli Purtroppo sta perdendo Contro il Genoa Non so se poi finirà Veramente così Però il Napoli E' una signora squadra Io direi di iniziare Il secondo tempo Fischiamo inizio Il secondo tempo Con le score Iniziamo il secondo tempo L'arbitro affischiato Si inizia a giocare Sui campi di Napoli E Milan E abbiamo subito Il Milan Che la ribalta E passa in vantaggio Con Sandro Tonali Milan 2 Atalanta Atalanta 1 Scusate Quadrato Della Juventus Il Napoli accorcia Con Osiman Il Napoli Va sul 2 a 3 Nandez Del Cagliari L'Atalanta Ripareggio Malino Vischi Ed è 2 a 2 A Milano Biraghi Della Fiorentina Giuric Della Sernitana Giroud Per il Milan Il Milan Va sul 3 a 2 Contro l'Atalanta Ma l'Atalanta Subito risponde 3 a 3 Con Musso Incredibile risultato Ragazzi 3 a 3 Fra Milan E Atalanta Napoli Genoa Siamo sul 2 a 3 Ok Troviamo Lautaro Martinez Il Toro Per l'Inter Capezzi Della Sernitana Chessi Per il Milan Ed è 4 a 3 Partita incredibile Ragazzi Non ci posso credere 4 a 3 Per il Milan Tolian Tolian Per il Sassuolo Eimans Per il Venezia Askildelsen Per la Samp Bremer Per il Torino Lazovic Per l'Ellas Felipe Andersson Per la Lazio Striglarsen Per l'Udinese Vignato Del Bologna Rui Patricio Per la Roma Ekdal Per la Samp Praet Per il Torino Mattia Destro Di nuovo Per il Genoa E qui ragazzi Si mette male Per il Napoli Che sta perdendo 2 a 4 In casa Per adesso Il Milan Vince 4 a 3 Contro l'Atalanta A Milano Ok Partita ribaltata Per loro Perdevano 1 a 0 Jonsen Del Venezia Oh no No Intergalactic Di Teo Hernandez Ragazzi Mamma mia Che carta Che ho trovato 5 a 3 Per il Milan 5 a 3 Per il Milan Mamma mia Che carta Ragazzi Non ne ho Una Di Intergalactic Di Teo Hernandez Teo Hernandez Intergalactic Per il Milan L'avete sentito bene Mamma mia Che bella carta Ragazzi Ma vi rendete conto Che cosa ho trovato Eh Vi rendete conto E questa è una carta decisiva Perché porta il Milan Su 5 a 3 Quindi una carta decisiva Poi troviamo Patrick Cutrone In Red Lava Raspatori Red Lava Musso Dell'Atalanta Che poi l'abbiamo trovato Anche nella Nella card normale Da 5 a 4 Ragazzi Incredibile A Milano 5 a 4 E Acerbi Score Team Bene ragazzi Fischiamo il triplice Fischio Fischio finale Sono finite le partite 2 a 4 Per il Genova Contro il Napoli 5 a 4 Per il Milan Contro l'Atalanta Allora Da quanto usiamo le score Arrivano dei risultati Pazzeschi Perché poi Tutta seria Io non credo che i risultati Siano questi ragazzi Io ve lo dico Cioè Il Milan sicuramente Riuscirà a vincere Ma 5 a 4 Adesso è una partita Molto ricca Cioè Qui ci abbiamo In Sono 9 15 gol 15 gol In 2 partite Cioè sarebbe Una cosa Già anche l'altra volta Nelle scorse Quelle di Verona Torino E Roma Venezia Hanno usciti Tipo 10 gol In 2 partite Cioè sarebbe Una giornata Di campionato Incredibile Ma Non so se succederà Così Comunque Nota più positiva È questa Intergalactic Di Teo Hernandez Bellissima Quanto sono belle Le Intergalactic Peccato che Le score Già sono finite Ragazzi Non si trovano più Quindi Ne volevo comprare Delle altre Ma Non si trovano più Quindi Non le comprerò E quindi ragazzi Ci vediamo Nel prossimo pronostico Che sarà Cagliari Inter E Juventus Lazio Ciao a tutti Ciao a tutti